Allora, cercherò di non annoiarvi, il mio obiettivo è raccontarvi una storia, una storia ovviamente di successo che possa magari ispirare anche voi. Da 0 a 7 milioni, in verità dico le bugie, perché 7 milioni è l'obiettivo che abbiamo per quest'anno e lo stiamo portando avanti, per cui insomma è il futuro ma siamo a dicembre, siamo messi bene. Vedremo quindi come è nata l'idea, quali sono state le difficoltà, come siamo riusciti a crescere negli anni e la cosa di quest'anno sicuramente di forte interesse è che siamo sbarcati anche sulla televisione, quindi che effetti ha avuto la televisione sul processo di vendita. E vedremo poi l'internazionalizzazione che è il tema del 2020, lo stiamo partendo in questi giorni e sarà sicuramente il grande tema dell'anno prossimo. Non mi annoio su chi sono. La Genesi. Allora, nel lontano 2013 mi arriva la classica email di compilazione del form, noi siamo un'agenzia web quindi ci arriverà la richiesta di questo cliente. Parlo di lontano perché 6 anni sembrano veramente pochissimo, però ripercorrendo la storia veramente mi sembra che eravamo all'età della pietra. Arriva la classica richiesta dell'imprenditore dove la richiesta è TO, quindi molto poco compilato, non sa budget, non sa tempi di consegna, ha le idee forse confuse, però giustamente andiamo a trovarlo. Eros è la classica azienda, casa, bottega, quindi sotto al magazzino, sopra l'appartamento, è fondamentalmente solo lui e si occupa di vendere l'attrezzatura per le ristorazioni nei vari bar della zona. Cosa succede? Succede che a un certo punto entra ad alcuni clienti e inizia a trovare dei prodotti di un brand che lui non conosce. fa delle ricerche e scopre che questi brand sono venduti direttamente online e quindi inizia a farsi delle domande sul futuro della propria azienda. Lui ha un figlio che all'epoca 2013 ha più o meno 18-17 anni e quindi dice sto creando un'azienda che posso dare ai miei figli o sto creando un'azienda che fra qualche anno sparirà? E l'altra domanda che si chiedeva è mi troverò fra qualche anno a dover riparare i prodotti che ha venduto qualcun altro e voglio fare quel tipo di lavoro? la risposta era no. E quindi dice voglio ragionare anch'io sul fatto di andare online e vendere i prodotti. Però hanno una piccola particolarità i suoi prodotti. Sono banchi frigo lunghi 6 metri, sono abbattitori di calore da 100-200 kg, quindi non proprio il classico prodotto che siamo abituati a vedere il pacchetto da spedire online. Quindi io ho fatto questa faccia qui, quindi dico guarda l'idea è bella e carina, però sai costi di spedizione, rotture, difficoltà di installazione, insomma c'erano tanti dubbi che ho iniziato a mettere sul piatto. Io avevo dei dubbi, lui invece aveva dei dati fortunatamente, nel senso che aveva già avuto una serie di incontri con alcuni fornitori e aveva in verità delle informazioni sul fatto che chi era online in quel momento aveva già dei risultati interessanti, per cui insomma dati vincono sulle opinioni. Io avevo le mie opinioni che erano più o meno intelligenti, ma giustamente Eros aveva più informazioni di me. Io dico ok, guarda che realizzare la piattaforma come l'avrete capito vale poco, nel senso è importante ma non è quello che fa vincere sul mercato, quello che serve è poi che possiamo fare degli investimenti e far crescere questo progetto. Eros dice nessun problema, se il progetto fa i risultati che dico io non abbiamo nessun tipo di problema di fare gli investimenti e così diciamo ok, partiamo. Il mazzo di carte di Eros in verità è più interessante, scopro dopo di quello che pensavo. La maggior parte dei produttori dell'attrezzatura professionale per la ristorazione è su Padova, quindi lui aveva tutti i fornitori principali ma non italiani a livello europeo, proprio lì in zona e quindi aveva dei rapporti personali con queste persone, aveva un rapporto consolidato di fiducia e aveva un altro grande vantaggio che i competitori nazionali dovevano o fare triangolazione o farsi fare ogni volta delle spedizioni, mentre lui aveva la possibilità di prendere il camietto e andare anche a rifornirsi man mano che gli serviva, quindi poteva usare in qualche maniera i magazzini dei fornitori e poter fare delle spedizioni estremamente rapidi senza dover fare magari due o tre spedizioni con i costi di due o tre prodotti e quindi riusciva assolutamente ad abbattere i costi di spedizione. E quindi poi lui è un bravissimo commerciale, quindi quando era ora di andare a fare gli acquisti era bravo a spuntare quell'1-2% in più di scontistica che in questo settore fa la differenza. Quindi buone capacità di investimento e idee abbastanza chiare. Partiamo il 2013, questa è la prima versione del sito internet, non è ancora responsive. Iniziamo e ancora prima che il sito vada online lui aveva già iniziato a caricare i prodotti su Kijiji dove vedeva che c'era possibilità di promuoversi. Al 12 novembre 2013 attiviamo le prime campagne con 25 euro di budget al giorno, quindi budget tutto sommato abbastanza limitati. Da lì a poco aveva una fiera che lui aveva già bloccato da mesi dove voleva andare con la sua azienda classica. Decide pochi giorni prima di andarci come Sheffline, quindi ristampa tutto, cambia le grafiche e ci presentiamo praticamente alla presentazione del sito internet già anche con un evento fisico, quindi dando anche una certa sicurezza. Dal 22 novembre siamo poi presenti su Trova Prezzi. Diciamo che non si perde tempo e cerchiamo di partire abbastanza rapidamente. Le prime cose che vediamo che si muovono non sono vendite ma sono richieste informazioni. Sulle spedizioni, sui costi, avete un catalogo. Dopo qualche giorno il 13 novembre arriva finalmente il primo ordine. Come vedete manca anche l'immagine, quindi eravamo ancora in fase di rodaggio, di rifinitura. Primo ordine di 919 euro più IVA e quindi siamo tutti contenti. Questo è grafico alla fine dell'anno dove è interessante notare che c'è una fase di acquisizione traffico dove l'utente inizia a contattarci alle informazioni per poi esserci una fase di acquisto. Quindi abbiamo 26 richieste di informazioni e poi generiamo una quarantina di vendite per qualche migliaio di euro. Quindi insomma siamo appena partiti e il feedback è sicuramente interessante. L'ordine medio è di 2000 euro, quindi iniziamo subito a mettere giù qualche prima considerazione sul fatto che i tempi di conversione non sono un giorno o due giorni ma sono 10, 15, 20 giorni in base al processo di acquisto. L'ordine medio è interessante e capiamo anche che l'ordine medio, o meglio capisco io, forse magari per il cliente era più palese, il fatto di avere un ordine medio o alto ci permette di raggiungere e di andare a break even più facilmente. Perché pur non avendo delle marginalità altissime, ogni vendita lasciava un margine interessante. Con un valore medio quindi per ordine il costo di acquisizione del cliente può essere più elevato. Se su 1900 euro ho una marginalità del 20-30% e mi restano 300-400 euro, posso permettermi di spendere anche 100-200 euro per acquisire un cliente. Le attività offline abbiamo visto poi nel tempo come ci hanno dato una spinta soprattutto in termini di fiducia. Essendo ordini, tenete conto che lo scontino medio è di 1.900, ma vuol dire che si generano anche vendite da 8, 20, 15, 1.000 euro. Quindi facciamo anche delle vendite grosse assieme a qualche vendita piccola. Il 2014 è quindi il primo vero anno. La prima cosa che ci chiedono di implementare è un modulo preventivi. Praticamente a un certo punto non riescono più a dare il giro ai preventivi e quindi è importante automatizzare quel processo. In verità la richiesta preventiva diventerà subito un obiettivo quasi primario, nel senso che al cliente è indispensabile per andare dalle banche e farsi finanziare spesso il progetto. Quindi deve aprire il ristorante e ha bisogno della documentazione. Per noi diventa un enorme sistema di big generation, quindi riusciamo a acquisire parecchi contatti che poi pian pianino inizieremo a fare le recolti telefoniche e quindi a lavorare anche sulla parte telefonica. Gli investimenti pian pianino passano dai 1.000 ai 3.000 euro al mese. Andiamo ad attivare il remarketing statico su Google, quindi un remarketing di tipo banneristico per aumentare la fiducia sul cliente. E a luglio andiamo ad attivare anche una piccola campagna shopping di accompagnamento per iniziare a fare degli ulteriori test. Questo è il risultato del 2014. Notiamo ancora la fase informativa dove vediamo che la linea blu, quindi le ricerche, il traffico del sito è molto alto ma le conversioni molto basse. Un secondo punto dove calano anche leggermente le richieste ma aumentano esponenzialmente le vendite per poi andare via via calare. I primi dati che raccogliamo quindi è un tasso di conversione da 0,3. Come sapete il tasso di conversione medio è l'uno. E' ovvio quando parliamo di un ordine medio di 1.000-1.500 euro ci possiamo tranquillamente aspettare un tasso di conversione molto più basso. L'ordine medio si stabilizza più sui 1.200 euro, un ordine medio che più o meno poi verrà mantenuto negli anni. L'altra cosa che possiamo notare è che il primo canale di acquisizione sono ovviamente legate alle attività di AdWords e l'altra cosa interessante è che i comparatori ci portano un buon traffico, un buon tasso di conversione e il problema è che a un certo punto più di quello non riesce a fare. Quindi abbiamo saturato TrovaPrezzi e lo otteniamo come canale buono ma se vogliamo scalare, vogliamo crescere dobbiamo puntare più su canali come AdWords. Un'altra cosa che iniziamo a notare è che i tassi di conversione delle campagne AdWords sono molto bassi ma andando poi a vedere quelli che sono altri modelli di attribuzione scopriamo che è un canale importantissimo in fase di scoperta quindi l'utente ci trova attraverso le campagne a pagamento e poi magari si converte cercando di nuovo su Google o accendendo direttamente al sito internet quindi è importante iniziare a capire che ci facciamo vedere con un canale ma raccogliamo con altri canali essendo appunto il processo di acquisto un po' lunghino. Questo appunto è tramite Google Analytics è possibile confrontare modelli di attribuzione in questo caso confrontiamo i due modelli opposti quindi il modello di attribuzione che attribuisce la vendita all'ultimo click con il modello di attribuzione che attribuisce la vendita al primo click a distanza di 90 giorni e si dibattono completamente le logiche perché AdWords passa da 70 conversioni a 154 quindi raddoppiano i dati, va a confermare quello che dicevamo prima quindi l'utente utilizza il canale per scoprire l'azienda, scoprire il prodotto per poi spostarsi. Questo grafico qui sempre di Analytics lo prenderei con le pinze penso che il 50% delle vendite avviene dopo il primo giorno in verità in questo segmento qui sono molti di più le vendite difficilmente possiamo fare una vendita emotiva quindi ci sono sicuramente anche degli errori, delle difficoltà di tracciamento quindi il cliente ci scopre su AdWords dopo 20 giorni accedi in maniera diretta e compra viene attribuito al canale diretto nel primo giorno ma in verità mettendoci un po' di intelligenza e ragionando sui dati capiamo ovviamente che non può essere così. Iniziamo anche a tracciare quindi come obiettivi non solo la vendita ma iniziamo a tracciare come obiettivi anche quanti compilano il farm contatti quanti richiedono informazioni ai prodotti e soprattutto quanti richiedono preventivo perché diventerà per noi una KPI più importante della vendita. Quindi le considerazioni per il primo anno sono appunto che c'è un periodo in cui c'è un forte aumento delle richieste info-richieste preventivi e c'è un momento in cui l'utente acquista. I tassi di conversione passano quindi da 0,20 in un primo periodo per arrivare a 0,040, 0,45 nel periodo in cui vendiamo molto. Iniziamo a capire che con un processo così lungo e frammentato diventa un po' difficile misurare. Gli strumenti ci danno delle informazioni ma dobbiamo giocarci anche l'analisi diciamo più intellettiva quindi andare a capire effettivamente cosa sta succedendo tra quando l'utente scopre e quando l'utente acquista. E' quello che vi dicevo prima quindi che i compratori sono un buon strumento però a un certo punto spremuto il canale non hai la possibilità di accelerare non hai tutti quei strumenti, quelle leve che hai sugli altri canali di marketing dove puoi scalare il tuo processo. Il cliente ci segnala anche, inizia a segnalarci che in verità il 30% delle vendite le fa telefonicamente e passano fuori e-commerce. Quindi in verità scopriamo che i dati che abbiamo noi da Analytics mancano anche di una buona fetta di vendite perché vengono fatte online. Quindi collegandomi a discorso di prima insomma online sì però bisogna avere sempre una visione molto globale. Se avessimo dovuto guardare le performance delle campagne avremmo dovuto spegnere tutte le campagne AdWords perché performavano male. Ma in verità il ragionamento era un po' più ampio. Nel 2015 quindi è l'anno della crescita andiamo online con la nuova versione Responsive decidiamo di voler spingere sul colore arancione di essere in qualche maniera identificati al colore arancione quindi cerchiamo di fare questa migrazione senza stravolgere quello che i clienti ci avevano insegnalato di buono quindi la navigazione per categorie attraverso le fotografie e tutta una serie di cose perché avevamo visto essere funzionali e funzionanti. A maggio andiamo ad attivare la campagna Brand la campagna Brand ci offre alcuni vantaggi. Un primo vantaggio è quello di misurare la forza del Brand quindi tutte quelle attività che facciamo online e off-site le rimisuriamo con tutti quelli che cercano proprio Chef Line quindi iniziamo a capire qual è la forza del Brand. Ci serve poi perché i competitor iniziano a fare delle campagne a pagamento sulla nostra chiave Brand quindi non vogliamo essere secondi, terzi ma vogliamo essere primi a pagamento e primi in organico e inoltre Chef Line per il target medio pone anche delle difficoltà c'è chi scrive Chef con la S o Chef Line insomma fanno difficoltà a scriverlo quindi raccogliamo anche gli errori di digitazione. Da ottobre attiviamo poi anche la parte di remarketing dinamico. Visto i buoni risultati di Trova Prezzi andiamo anche a cercare altri comparatori che ci possono portare del traffico a un costo interessante con i buoni tassi di conversione e quindi andiamo ad attivare Trova Prezzi è ovviamente il numero 1 in Italia che il Q e il Twenga sono i numeri 2 e il numero 3. Ve lo anticipo perché non sono le slide poi abbiamo deciso di chiudere questi due canali perché non offrivano le stesse performance di Trova Prezzi e quindi abbiamo deciso che non valeva la pena tenere aperto un canale che produceva pochi risultati. A fine anno passiamo dalla casa bottega alla nuova sede tenete conto che questo stabile qui è questa zona piccolina qui e quindi sono tre piani e parecchio lunghi e tutta questa area qui è stata acquisita a un'asta quindi ha fatto un investimento importante passando da 600 metri quadri a 8000 metri quadri quindi abbiamo e avevamo molto più spazio di quello che potevamo avere bisogno però questo permette di iniziare a fare delle altre logiche quindi di poter fare molto più magazzino di conseguenza andare a avere dei prezzi sul fornitore molto più importanti quindi insomma sono iniziate delle logiche sia di crescita aziendale in termini di personale ma anche di politiche di acquisto sui fornitori. Mi ricordo una volta e marketing è questo perché vi racconto un piccolo aneddoto una volta Eros mi dice guarda ho il mio fornitore che ha 25 abbattitori che ha deciso di fare una promozione particolare io li compro tutti a 25 perché non voglio che la concorrenza possa comprare quei prodotti a quel prezzo li voglio avere solo io e quindi ha fatto un investimento quindi anche la fase di acquisto è una fase importante di marketing per avere quella marginalità extra. quindi passiamo da 500.000 euro a 1.300.000 quindi buono facciamo un più 5% sul tasso di conversione l'ordine medio poco più poco meno insomma resta sui 1.200, 1.300, 1.400 e grazie alla campagna brand iniziamo a vedere che pur essendo attiva da maggio inizia a sviluppare un tasso di conversione dell'1.78 e 150.000 euro. Un altro vantaggio della campagna brand è che mi pulisce i dati nel senso che se non avessi fatto questa campagna brand qui avrei avuto la campagna AdWords magari con un tasso di conversione del 0.5-0.6 ma sarebbe stata un'informazione tendenziosa e sbagliata qui so che tutte le attività che stiamo facendo ci ritornano indietro di brand e quindi accetto dei tassi di conversione più bassi a favore di un tasso di conversione molto alto di clienti convinti ovviamente che vogliono Sheffline cliccano e comprano. Qui si vede chiaramente il picco stagionale dei mesi più importanti che sono marzo-aprile una cosa interessante è che in quei mesi aumenta sia il tasso di conversione sia il numero di ordini ma anche l'ordine medio quindi aumentano tutti i parametri in alcuni altri settori magari fai il Black Friday fai dei volumi alti ma magari a scontrino medio più basso in questa fase qui invece per loro è tutto esponenziale perché arrivano quei famosi ordini da 5, 6, 10, 15, 20 mila euro di chi deve fare la cucina completa e quindi compra tutto l'arredamento. Quindi le considerazioni di questo anno è che col nuovo sito ovviamente è migliorato molto l'appeal sotto l'aspetto mobile e durante la migrazione gestendo bene tutta la parte se non abbiamo avuto nessun tipo di problema a livello di traffico anzi poi ha avuto ovviamente una crescita più positiva il trend preestivo è ormai una visione chiara e forte quindi è dove lavoriamo dove cercheremo poi di spingere molto e che la forza del brand accumulata ci sta premiando con dei miglioramenti delle performance quindi il 2015 si chiude come un anno molto positivo facciamo più del doppio del fatturato l'anno prima l'obiettivo di Aeros è andare a raddoppio ogni anno con il capanone nuovo con le persone nuove con tutti gli investimenti fatti ci sapete insomma un 2016 esplosivo invece il 2016 è un anno sotto tono quindi non raggiungiamo gli obiettivi sperati nel 2016 cosa succede? a febbraio iniziamo a gestire la campagna Facebook una delle prime attività che andiamo a fare è l'aumento di fan non con degli obiettivi di marketing specifici se non quelli di coerenza nel senso vogliamo essere un brand in certo livello abbiamo 36 fan lavoriamo intanto su portare sulla base fan e poi iniziamo a fare delle attività strettamente social facciamo qualche attività tecnica quindi l'HTTPS che oggi è quasi è obbligatorio e standard andiamo a implementare l'HTTPS aggiungiamo la chat quindi iniziamo a dare un supporto anche via chat e Sheffler inizia a strutturarsi anche con il marketing interno quindi capisce che la SEO ha bisogno di un'enorme quantità di ore capisce che non ha senso delegarla a un'agenzia esterna e inizia a internalizzare con delle figure specifiche anche questi aspetti qui esce un articolo sul giornale quindi da 200 a 2 milioni di euro e questo qui è il risultato la cosa più nuova che notiamo è che in verità i trend sono due un trend che non era così visibile nei primi anni sulla parte invernale inizia invece ad essere molto interessante e quindi iniziamo ad analizzare il fatto che abbiamo un trend per la stagione estiva e un trend per la stagione invernale ovviamente il loro target è la ristorazione gli hotel che lavorano molto d'estate ma lavorano molto anche d'inverno abbiamo un leggero calo sul tasso di conversione e facciamo più 428k quindi male nel senso che non c'è stata quella crescita che si aspettava benino perché comunque insomma abbiamo comunque fatto una crescita il 68% delle vendite è generato da non dai canali dove stiamo spingendo ma dai canali dove raccogliamo in qualche maniera una figura indiretta metto dentro anche l'organico perché perché comunque siamo certi che in quelle transazioni su organico anche vedendo i tassi di conversione molto alti esiste comunque una forte parte di brand cioè molti che cercano abbattitore chef line non cliccano sull'annuncio pagamento ma cliccano sulla parte organica e quindi sappiamo che comunque anche quello lì è tutto un effetto indiretto di tutte le attività che stiamo facendo sopra quindi facciamo molto traffico con i canali sopra e convertiamo molto con i canali più legati alla parte brand questo è il grafico quindi sui picchi stagionali la cosa da notare qui è che quando spingiamo sui periodi no è no nel senso che comunque sappiamo che possiamo spingere quanto vogliamo ma se il periodo è se il trend è molto stagionale il periodo non è dei migliori non possiamo ottenere grandi cose però lavoriamo molto sulle richieste preventive quindi in verità stiamo preparando il terreno per fare poi quei picchi se dovessimo accendere le campagne solo nei momenti migliori non avremmo preparato il terreno per fare per fare questi numeri quindi il terzo vanno le considerazioni sono che la crescita non è mai garantita all'aumentare di un mercato dei volumi aumentano i competitor quindi un mercato dove lui è arrivato con le tempistiche giuste iniziano a svegliarsi tanti piccoli competitor che vengono fuori come i funghi che nascono restano magari per due o tre mesi ci spendono sopra qualche migliaio di euro poi vedono pochi risultati e magari vanno via però si alternano andando ad aumentare i costi delle campagne diminuendo il tasso di conversione perché comunque si spalma sulle varie entità e diminuendo i margini sul prodotto perché siamo obbligati ad essere più competitivi quindi quello che diceva Nicola prima di cercare di reinvestire tutto rapidamente è anche per prepararsi avere le spalle grosse nel momento in cui arrivano dei competitor a farci le scarpe quindi la strategia di Eros è assolutamente in questo senso quindi continuiamo con la nostra crescita 2017 quindi lo considero un po' l'anno della maturità abbiamo fatto i nostri errori abbiamo visto che non si può sempre crescere e cerchiamo di capire come migliorare attiviamo a maggio Criteo Criteo è un sistema di remarketing dinamico tipo quello di Google Shopping versione remarketing solo che automatizzato è un algoritmo abbastanza interessante noi ci troviamo bene perché vedo che è abbastanza persuasivo nel momento in cui tu accedi al sito internet sfrutta parecchi canali è un buon algoritmo lui Analytics ci dice che ci ha aiutato perché ha fatto il 12% delle conversioni secondo il modello di attribuzione di Criteo invece il triplo e qui entriamo un po' nel gioco di come decidiamo di assegnare una vendita e anche sul fatto che ognuno tira l'acqua al suo molino quindi secondo Criteo invece quindi cercheremo poi anche qui di metterci un po' di testa di dire un po' un po' sicuramente un canale che ci aiuta sicuramente un canale che fa brand sicuramente un canale che riporta al cliente quindi lo teniamo Facebook nel 2017 diventa il quarto canale in termini di acquisizione di traffico come tasso di conversione invece 0,2% però anche qui le sensazioni positive dell'imprenditore ci dicono che in verità si attivano un sacco di chat si attivano un sacco di telefonate si attiva un sacco di fiducia sul brand quindi anche se non vediamo un risultato importante in termini di vendita l'imprenditore Eros ci dice che in verità ha un buon impatto a livello generale sempre per restare sul gioco delle attribuzioni dei tassi di conversione Facebook invece si attribuisce tramite il suo pannello un quarto del fatturato secondo Google invece sul periodo guardato è circa 0,7% chi ha ragione bisogna studiare il modello di attribuzione quindi scusa scusa Luca ti interroppo ne parliamo domani mattina quindi stai anticipando il discorso dell'attribuzione benissimo poi lo approfondiamo domani mattina ok vi faccio un piccolo Facebook dice la vendita è merito mio se l'utente ha cliccato negli ultimi 28 giorni e poi fatto un acquisto o se ha visualizzato semplicemente il mio annuncio nell'arco dell'ultimo giorno ora pensare che un utente in un giorno entra su Facebook e per sbaglio intercetti l'annuncio è abbastanza probabile e questo è il motivo per cui si attribuisce se andiamo infatti a scorporare le campagne di remarketing che occupano 200.000 euro ci troviamo qui 15.000 euro che sono meno distanti dei 6.000 euro attribuiti da Google Bing attiviamo anche Bing Bing ti dà la possibilità senza fare fatica di replicare le campagne e quindi abbiamo più o meno le stesse performance in scala 1 a 50 quindi però è un canale che costa poco ci porta un minimo dei risultati e quindi andiamo ad aggiungerlo però le dinamiche sono assolutamente identiche il SEO con l'introduzione delle figure dedicate inizia a portare dei risultati più interessanti quindi andiamo fondamentalmente dal 2016 al 2017 a raddoppiare quello che è traffico SEO curando meglio le schede rivedendo una cosa che non vi ho detto è che all'inizio per accelerare i tempi con il progetto abbiamo deciso di importare le schede prodotto dai fornitori quindi sapevamo benissimo che andavamo online con un catalogo che sarebbe stato difficile indecizzare ma il cliente non interessava avere per il momento questo tipo di approccio voleva innanzitutto testare il modello capire se ci potevano essere vendite e poi pian pianino saremo andati a riscrivere tutti i contenuti così è stato e così siamo stati premiati quindi insomma con un raddoppio il brand lo ribadisco in questo caso aumenta ancora di più tasso di conversione all'1,46% il 26% delle vendite sono sicuramente da gente che scrive chef line come vi ho detto prima ci aggiungerei un altro 50% di queste vendite qua per cui il brand è il primo il primo canale di vendita introduciamo civetta quindi andiamo ad implementare quello che è un sistema di ricerca potenziato attiviamo click cheese che è un servizio che ci permette di bloccare i click fraudulenti quindi ci permette di prevenire quelli che sono i costi quindi che google ci adebita in maniera inappropriata e iniziano anche delle attività offline diventa sponsor di un evento molto importante sul settore della ristorazione con tutte le magliette insomma tutti i partecipanti avevano le magliettine con il loghetino questo è Eros il titolare quindi nel 2017 obiettivo 4 milioni raggiunto e superato i due trend notiamo come sono presenti abbiamo tutto sommato colmato anche una parte centrale per cui in verità anche sui periodi più scarichi riusciamo comunque a fare dei buoni vendite qui è semplicemente riepilogato quello che dicevo prima quindi tassi di conversione i risori che dovrei spegnere tutto ma se io spengo queste 4 campagne qua scendono e si distruggono anche questi tassi qua per cui è importante in questo caso con il processo lungo dire con questi soldi vado a intercettare la scoperta e far scoprire i prodotti con gli altri raccolgo i frutti e faccio una media questo discorso visto 2018 nel 2018 c'è un piccolo restyling entra un'altra figura che si occupa poi di video che ci aiuta a fare a rivedere un po' la UX l'obiettivo è stato quello di pulire semplificare e dare un'immagine più sobria e nuova tra virgolette nel sito l'altra cosa che andiamo a fare è l'inserimento di un facilitatore di contatto un pulsantino che su mobile ci permette di chiamare direttamente di attivare Whatsapp di fare le condivisioni la cosa che andiamo a fare è attivare una serie di UTM per iniziare a limitare quello che è il traffico diretto cioè quel traffico che per Google sono persone che hanno digitato direttamente il nostro sito ma in verità sono spesso dei link che non sono tracciati correttamente e quello che notiamo insomma è che il click su Whatsapp è molto sentito e ha anche generato un pochino di vendite per 7500 quindi qualche vendita si è conclusa dal link che gli abbiamo girato su Whatsapp la stessa cosa andiamo a fare anche sulle mail transazionali sono sulle mail che l'e-commerce genera capito che il preventivo è un canale estremamente interessante per le conversioni andiamo a mettere l'UTM su chi clicca sulle mail per recuperare il preventivo perché il sistema preventivo funziona che arriva un'email e hai 20 giorni di tempo per cliccare a recuperare il carrello e chiudere la transazione dopo i 20 giorni non puoi più farlo perché molto probabilmente sono cambiate le politiche e i prezzi e notiamo insomma come chi clicca qui abbia poi un tasso di conversione del 26% e diventa insomma come vi dicevo prima una KPI per noi importantissima però è importante pulire quanto più possibile il traffico diretto quando vedete che avete tanto traffico diretto e dei buoni tassi di conversione dovete chiedervi quali sono i link che arrivano direttamente al sito e che non sono tracciati che non hanno quel codicino che ci permette di capire da dove arriva quel link nel 2018 iniziamo a curare anche youtube assume una persona un videomaker in azienda e inizia a fare i video sia di natura esplicativa quindi dove spieghiamo il prodotto le caratteristiche del prodotto che verranno inserite all'interno della scheda del prodotto sia di natura promozionale e anche questo qui insomma inizia a darci solidità e immagine non solo online escono circa una ventina di uscite su quotidiani locali partecipa di nuovo a quello che è l'evento tecnobar e food con un stand particolarmente importante quindi anche il riconoscimento di parecchi fornitori che vanno e quindi gli danno maggior credibilità e fa per il secondo anno i chef awards quindi ripartecipa con un investimento ancora più importanti per avere più visibilità anche su eventi fisici tutto questo secondo me è importantissimo per l'ordine medio che abbiamo quindi nel momento in cui l'utente decide di spendere 2, 3, 4, 5 mila euro ha bisogno di un'infusione di fiducia maggiore che non acquistare il prodotto a 20-30 euro e la possiamo dare solo con una presenza fisica offline esce l'altro articolo quindi come è andata benino arriviamo a 4 milioni di euro un buon anno sicuramente e facebook intanto per ovviamente non attività social ma per payment quindi facciamo sempre più campagne a pagamento su facebook inizia a diventare il secondo canale veloci il condo brand resta sempre lì all'1,54 più 700k ma soprattutto un più 5% di tasso di conversione e secondo noi è l'effetto della fiducia quindi il cliente inizia ad avere sempre più fiducia qualche cliente inizia a ritornare ad aggiungere qualche pezzo e quindi iniziamo a vivere anche un po' di riordino il 2019 il boom della tv nel 2019 va su Sky 1 e la 8 questa pubblicità se c'è anche l'audio le trovi su chefline.it abbattitori di temperatura a partire da 860 euro forni professionali da 360 euro tavoli armadi refrigerati da 689 euro forni per pizzeria da 289 euro lavaggio professionale da 635 euro e tante altre offerte impertibili su chefline.it non so se mi spiego ok interessante l'intuizione di Eros nel capire che su 4 hotel e 4 ristoranti ci sono sì gli amanti di cucina e i privati ma ci sono tantissimi ristoratori che cercano di capire come migliorare il proprio ristorante quindi sono due canali tematici per lui molto importanti come vedete il video non è molto creativo spinge molto sul prezzo perché la volontà è ormai chi cerca un abbattitore un prodotto che lui tratta su google online ci trova sicuramente l'importante era tutta quella grande fetta di persone che non acquista online e l'obiettivo era di fargli capire che ci sono delle forti possibilità di risparmio tenete conto che quello che magari viene venduto a 360 euro nel mercato offline viene venduto a 5, 6, 700 euro non perché sono più cari ma perché magari c'è dietro un concetto di assistenza ma per il ristoratore risparmiare qualche migliaio di euro è sicuramente importante l'hashtag la frasetta non so se mi spiego è perché Eros lo dice più o meno ogni 5 minuti quindi è un suo modo di dire e quindi in maniera simpatica i colleghi l'hanno poi usato come hashtag quindi non so se mi spiego anch'io la pubblicità abbiamo iniziato sulla tv a gennaio per il discorso che dicevamo prima quindi dobbiamo un po' anticipare non possiamo proporre la pubblicità e aspettarci una conversione il giorno dopo però è chiaro come da un trend abbastanza costante dove le aspettative di crescita erano più che pian pianino in qualche maniera stavamo andando a saturare il mercato c'è invece un grandissimo un grandissimo influenza un grandissimo gap che purtroppo non è così misurabile la tv non so che possiamo misurarlo sugli accessi diretti su quello che è la crescita del brand però insomma i fatturati parlano chiare a parità di investimenti sui canali di advertising digital la crescita è sicuramente importante andiamo ad aggiungere i pagamenti con la carta di credito anacronistico ma lui non ha mai voluto i pagamenti con la carta di credito perché avere un problema di qualche cliente che potesse rifiutare o attaccarsi su un ordine da 1.000 2.000 3.000 4.000 euro con delle marginalità piccole era troppo rischioso e quindi ha sempre puntato solo sul bonifico però decidiamo di attivare anche questa possibilità per capire se magari qualche prodottino più piccolo poteva essere venduto e ad oggi tutto sommato la statistica paga perché non abbiamo mai avuto grandissimi problemi benvenuto fratellino qui vi racconto un po' la storia del nuovo brand Sheffuk Sheffline è un marchio registrato in Italia registrato diversi anni fa a un certo punto decidiamo che è arrivato il momento di internazionalizzare e andare in Europa scopriamo purtroppo però che Sheffline è un marchio registrato di una grossa azienda tedesca lo ha registrato semplicemente perché è la linea diciamo di assistenza di questo grosso brand che produce forni però essendo un brand estremamente grosso la paura di andare online con un brand che siamo attaccabile ci ha fatto un attimino fermare e dire cambiamo nome ma cambiamo nome anche per l'Italia dove abbiamo un brand che abbiamo visto che sono sei anni che ci lavoriamo su o andiamo con un nome diverso la scelta è stata quella di restare in Italia come Sheffline e andare all'estero con un brand che graficamente esteticamente potesse richiamare ma che fosse un nome diverso che fosse registrabile quindi abbiamo iniziato il processo di registrazione del marchio internazionale con estensione poi anche su alcune nazionalità in America e in Brasile e siamo andati a creare praticamente una doppia testa con un brand dedicato dove Sheffline diventerà la linea di prodotti di Sheffuk venduti direttamente da noi anche in questo caso Aeros ha fatto tutta un'attività di rebranding dei prodotti quindi una buona parte dei prodotti sono marchiati Sheffline questi sono i dati a ottobre quindi è interessante vedere come si è aumentato il tasso di conversione nonostante Facebook sia diventato primo canale quindi sappiamo come Facebook sia notoriamente un canale dove convertiamo molto bene nonostante questa iniezione di traffico a basso conversione abbiamo comunque fatto un più 4% e questo è indubbiamente frutto della fiducia che è stata infusa dalla parte delle attività pubblicitarie le altre due cose che vi faccio notare è come il tracciamento delle mail transazionali genera il 40 per 5% degli utili quindi tantissimi partono dal preventivo per poi dal preventivo convertire un ordine e l'altro 24% quindi l'80% delle transazioni sono dal traffico sede Shefflin abbiamo installato un UTM su ogni PC per tracciare i PC cosa facevano e siamo andati a vedere che praticamente la maggior parte delle vendite viene comunque fatto con un processo chiamiamolo più di cura sul cliente quindi di raccolto telefonico di preventivo di seguire per poi andare a fare la transazione vi riassumo in 12 punti il vi anticipo magari quello che sono il futuro cioè cosa andremo a fare nel 2020 sicuramente il focus sarà sulla parte di internazionalizzazione quindi abbiamo tutto pronto abbiamo già iniziato delle prime campagne di test l'obiettivo nel 2020 è quello di cercare di capire effettivamente che numeri stiamo partendo dalle nazioni un pochino più piccole per fare dei test e poi sicuramente passeremo alle nazioni un po' più più importanti i 12 le 12 cose che ho imparato che posso che voglio passarvi come concetto è che da un lato l'80% del successo è in mano all'imprenditore è l'imprenditore che deve avere la visione la strategia che deve avere le carte buone da giocare l'agenzia deve aiutare nel raggiungere gli obiettivi cercare di integrare quanti più canali possibili soprattutto online e offline i giochi cambiano i canali cambiano ed è importante poggiare il business su più su più piedi possibili il brand del vostro e-commerce a mio avviso deve essere sacro quindi dovete in qualche maniera cercare di ragionare da quando partite a creare il nome a tutte le attività che fate cercate sempre di mettere il brand avanti perché sarà quello che nel medio e lungo termine vi ripagherà di più cerca sempre di includere attività offline quindi l'importanza se possiamo partecipare a qualche evento fisico facciamoci vedere cerchiamo di renderci concreti quando vi fate i calcoli state molto attenti a quello che è l'ordine medio il tasso di conversione i vostri costi di acquisizione perché più basso è il vostro ordine medio più bravi dovete essere con la calcolatrice a far tornare i conti il mercato è in costante movimento dovete essere agili veloci dovete cercare di capire dove va o anticiparlo o cercare di in qualche maniera trovare il vostro angolo di attacco costantemente e rivederlo cercate di avere ben chiaro il customer journey quindi qual è quel viaggio che l'utente compie per arrivare ai vostri prodotti cercate di intercettarlo cercate di usarlo anche per leggere i dati degli analytics nei primi anni rinvesti tutto sulla crescita cercate di non pensare a diventare ricchi ma di cercare di far crescere il progetto che possa avere valenza sul mercato cercate di tracciare quante più cose possibili di limitare sempre al massimo il traffico diretto grazie agli utm e a tutte le tecnologie che vi vengono in mente arrivare tra portati in un mercato può voler dire successo oggi come oggi se dovessimo replicare su un altro cliente quello che ha fatto Ero sarebbe impossibile adesso che la competizione oggi i costi sono talmente alti che non sarebbe più possibile replicarlo quindi entrare con il timing giusto sul mercato ha sicuramente un enorme peso la tv spacca quindi posso dire che per quanto parliamo di digital per quanto parliamo di di canali digitali per le persone dire ho visto in tv o vi ho visto sul giornale ha un approccio completamente diverso da dire vi ho visto su facebook quindi comunque per la testa delle persone la tv è ancora al primo posto come fiducia quando pensate al vostro brand guardate avanti nel senso se potete non fate l'errore di voler internazionalizzare di dover cambiare il nome perché non ci avete pensato prima quindi basta il mio bonus è sempre la birra solo che me l'offrite voi in cambio della consulenza basta un applauso grazie un paio di domande poi grazie